allora ciao ragazzi bentornati altro video altra corsa altro scam qui sul canale giancanet se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale parto un po da questa home page magari ancora non tutti la conoscete chi segue il canale abitualmente invece un po la vista nascere perché l'abbiamo vista nascere insieme anzi parto da qui questo è il profilo di fabrizio allegrelli è il mio alter rego l'utente scemo dei social l'utente scemo di internet che casca in tutti i tranelli che non sono solo scam poi vedremo anche tranelli di altro tipo informativi politici perché no e come tutti i bravi boomer che non riescono a capire a distinguere la realtà dalla fantasia allegrelli si è messo anche a creare un blog quindi è diventato blog blogger scieribelli punto it ma oggi non parliamo di questo però se proprio la seguite scieribelli punto it con tantissime immagini da condividere alcune indignate indignate altre meno indignate ma comunque comunque da seguire tanta roba è un esperimento sociale oggi vi faccio vedere però sport milano che sta devastando facebook mi sono arrivate già tre segnalazioni aspettate mi faccio più piccolo di sponsorizzate vorrei capì io ste sponsorizzate chi le paga come vengono pagate sapete che con meta io so sempre un po' particolarmente critico perché ovviamente parte l'esa in maniera insomma ufficiale rispetto a queste a queste attività però allo stesso tempo insomma potrebbe un po migliorare la propria moderazione la propria intelligenza artificiale e soprattutto risponde in maniera corretta intelligente alle tante segnalazioni che poi a meta arrivano e che invece dalle quali meta in genere risponde pic dopo vent'anni straordinario chiudiamo le nostre porte dopo due decenni al servizio dei nostri meravigliosi clienti il nostro negozio articoli spottivi a conduzione familiare a londra quindi c'è un bel refusione di questa sponsorizzata che evidentemente copia incolla in diversi paesi europei questo sempre organizzazioni che non agiscono quasi mai solo in un paese solo in un mercato il mondo sta cambiando anche noi non ve lo leggo tutto è il solito annuncio se non fosse per quel refuso che però alle grelli non nota perché un odore incoglionito in realtà sembra davvero un negozio anche se vogliamo anche con l'immagine non proprio fatta bene non particolarmente fatta bene magari tipica ad un negozio locale che si fa le cosettine sue con canva come del resto peraltro faccio io per il mio canale chiude questa attività annuncio come vedete so parecchie interazioni annuncio corredato da recensioni finte queste stelle queste recensioni che sono diciamo un metadato inserito direttamente nella ads che sicuramente tende a confondere ancora di più gli utenti in realtà stiamo parlando totalmente di un sito scam che non esiste lo apro sport milano quindi dominio super generico sport trattino milano punto it si presenta con un e commerce con sconti eccezionali adesso non sono esperto di prodotti sportivi ma sono certo che sono sconti particolarmente attraenti di oltre il 60 per cento insomma da 110 a 39 e 95 tutto funziona abbastanza salvo le solite red flag che chi segue il canale ha imparato nel frattempo a conoscere insomma localizzazione di fatto inesistente c'è solo un semplice milano trattino italia per essere tutto corrente però è fatto bene il sito è fatto bene secondo me è molto forte il fatto che nel brand ci sia la città insomma sembra veramente un'attività locale capisco chi entra in confusione totale assenza di partita iva nel footer che come ho già detto 1500 volte ragazzi non va bene non ci siamo rari d'apertura credibili 9 18 vabbè di fatto ripeto il sito funziona tutto fino al carrello ecco la prima volta che lo apro con voi in realtà lo stavo proprio vedendo tre minuti fa non mi soccorto di particolari problemi di particolare red flag fino al momento del pagamento che evidentemente non proseguiremo comunque gestibile con parte carta di credito paypal tutto quindi tutto sommato gestione del pagamento funzionamento in generale del sito meglio dei tanti e commerce che ho visto in giro diciamo ripeto di piccole attività locali annuncio che sta un investimento importante perché se me l'avete segnalato in due tre vuol dire che mettono tantissimi soldi per continuare a fare ads su facebook chissà quante persone ci stanno cascà per ora non ho notato segnalazioni ma metto questo video che poi come sapete tendo a indicizzare anche su google non tanto per avere più views ma anche per aiutare gli utenti che quando cercano magari il dominio speriamo che lo facciano fanno una ricerca su google troveranno questo mio video quindi li saluto utente di sport milano non date una lira ultima verifica ve la faccio vedere giusto per farvi vedere una verifica che potreste poi tutto sommato farvi pure da soli quando ci avete il sospetto che dietro un sito del genere con un annuncio del genere abbastanza credibile si nasconde uno scam io vado per comodità su ostin.aruba.it no perché sia sponsor di questo canale anzi non lo è proprio anzi se aruba vuole far da sponsor ben accetta per ora no ho sbagliato per ora che non ce l'ho come sponsor vi dico la verità non è nemmeno un servizio che realmente uso quello di ostin se no scusate ho digitato male mi sa se non per fare queste verifiche perché è semplicemente molto comodo il pannello ma da questo punto di vista ogni provider ogni register vale l'altro aruba è possibile verificare come se volessi registrare il dominio quindi dovete sport milan sport trattino milano punto it facendo attenzione di scrivere l'esatto dominio andandolo a cercare andiamo a vedere anche velocemente a chi è intestato questo poi un dominio punto it e vediamo in questo caso che è stato registrato il 4 ottobre 2024 rispetto a quando stiamo facendo questo video quando sto facendo questo video praticamente oggi è 15 10 giorni fa 11 giorni improbabile improbabile quindi che sia un'attività così che esiste da vent'anni se ripeto non è una prova non è che dovete diffida in genere dai domini nati da poco però due domande in più uno più una senza di partita iva dominio registrato l'altro ieri di un'attività che dice a ventennale quindi questi stanno a chiudere registrano un dominio ma me pare me pare proprio strano quindi scam scam molto molto pericoloso ovviamente nei commenti se avete altri dettagli riguardo questo settembre della pagina un attimo ecco anche questa è diciamo una cosa da notare il fatto che praticamente hanno aggiunto la copertina del negozio il 7 ottobre hanno messo in luogo il 7 ottobre tutto nasce il 7 8 ottobre 0 review forse una è una truffa dice un utente e quindi speriamo che l'abbia capito e non se sia proprio scottato like follower ve l'ho detto lo sapete valgono il tempo che trova il numero perché alcune attività locali hanno comunque numeri molto bassi altri hanno numeri molto alti ma dei indiani comprati al mercatino la situazione è questa diciamo che la pagina facebook non dice niente di fatto è una pagina facebook vuota come ne esistono tante nata per fare in realtà l'azzo cioè la come vedete peraltro la pubblicità non è inserita dentro la pagina è presente solo nel feed quindi questo è il feed di allegrelli anche allegrelli la beccata quindi una pagina utilizzata proprio come ponte solo per fare le azze questa è una cosa che meta permette che ovviamente non non contribuisce alla trasparenza alla trasparenza delle varie aziende inserite però ecco anche in questo caso se l'azienda fosse stata un'azienda bentennale con un negozio fisico bentennale avrebbe diventato una pubblicità una pagina facebook più ricca quindi grazie per aver visto questo video era solo un breve aggiornamento flash ma che sempre ci riporta al tema anche della sicurezza delle piattaforme noi dobbiamo svegliarci gli allegrelli devono svegliarci però le piattaforme possono fare ma non so come parlo un po mentana oggi possono fare decisamente di più quindi grazie per essere arrivati qui commentate commentate per spingere un po questo questo video mettete like e soprattutto se avete informazioni su questa cosa che ripeto stanno mettendo grosso budget sport trattino milano punto it fatemi sapere se avete altre tracce di questi scammer perché come sempre qui su jankanette continueremo le indagini anche durante le prossime i prossimi video e le prossime live ciao